faccio faccio spunta la coccia spunta la coccia dal mondo e abbiamo capito insomma che cosa abbiamo capito un po tutto ma che c'è le squadre che la faranno da padrona in questa campionata che si giocano lo squetto sono juventus e napoli è un campionato ma non mi pare poi ci stanno quelle che si arrabbata no 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 non mi pare questa cosa e non te pare allora ti spiego l'anno scorso l'anno scorso dopo queste giornate chi era primo inter l'inter la roma il napoli a juve stava all'ottava salvezza con chi c'era palermo lasco di mazzone e poi ehi da fini quella era juve ma che vuol dire insomma una squadra inquadrata una squadra anche un po delle regole gente non è che la va in giro tardi esatto vengono a ricchiappare le orecchie e quindi hanno rischiato quelli hanno una spia per ogni locale un po così di torino capito maura sta cosa non è poi dice scusa scusa c'è sta quindi telefono scusa c'era padovin scusa marotta c'è marotta c'è marotta c'è marotta c'è marotta c'è il signore qui si 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 e quelli mandano una macchina lo riprendono per le ricchi lo portano a casa non gioca più negli altre squadre invece questo non avviene non ci sono farsi i soldi per no 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 ci stanno anzi a cesta qual è il problema bassino 50 qual è il problema ci sono troppi locali a torino saranno 23 locali a roma c'è stanno troppi locali hanno come fai se paghi una spia per locale vai fallito per quello allora potremmo aver scoperto qual è il problema da roma i locali troppi locali e quindi non si possono gestire con le spie ecco fatto poi penso che una spia è poca c'erano almeno due o tre perché se no va l'attimo al bagno si distrae almeno tre spie per il locale quindi noi che stiamo a comprare giocatori la società mandiamo direttamente i controvi della finanza nei locali e facciamoli chiude perché sicuramente qualcosa oh nei posti di lavoro sti cazzi ma come sti cazzi ma a noi ci serve che la Roma va bene finché ci stanno i locali come cazzo l'operaio va a lavorare l'operaio va a lavorare nei locali no vabbè l'operaio va a lavorare in fabbrica le fabbriche aperte sempre le ragazzette che vanno nei locali le ragazzette stesse a casa a studiare questo sì magari è meglio poi sono capre sbagli nei congiuntivi scrivono se io sarei insomma abbiamo detto finché era la Juve giù e la recupera perché insomma c'ha una forma mentist le altre no non ce l'hanno quindi quando la Juve sta avanti le altre stanno dietro è finito il campionato ma giusto il Napoli che comunque ha una sua struttura di gioco e anche dei giocatori perché no c'ha dei centravanti pure il Napoli esce uno entra l'altro c'ha Gambiatini capito che quando entra comunque fa il suo e per cui il campionato questo qua l'abbiamo archiviato poi ci sono le altre che si arrabbattano per l'Europa League per cui la Roma la Lazio ci metto pure la Lazio scusa mi dici la classifica mi dici la classifica no si sa lì sa lì sa lì però vedi la Lazio di cui nessuno si aspetta niente che c'era dei giocatori operai mediocre eccetera vedi se vanno a far vedere capito ma chi ha detto mediocre a me a me e quindi si è tanto da fare mentre invece le squadre capito altezzose capito che la stampa aveva detto ah questo quest'anno lotta fare come ogni anno come ogni anno e la giocano così tranquilli oh c'è De Gret De Gret Bizoschi seguitelo seguitelo sul caso questo cameo così le altre squadre e il Toino il Toino proprio con la bava la bocca certo e il Gallo e il Gallo quello c'è una società un allenatore l'allenatore c'è la cazzimma capito quello se li incula che dici no Giannelli in culo Giannelli Giannelli in bula il giocatore quello se li imbula capito la sera mi mette proprio a no no non fa gesto ecco no a pecorino chiudi l'Inter l'Inter sembrava che l'Inter il segreto si è l'allenatore perché l'allenatore si è messo lì si è messo a imparare l'italiano si quello ha detto ma ha pareggiato in casa con il Bologna il Bologna non è una brutta squadra dopo essere stato sotto con il destro cioè il destro aveva fatto un tiro de piatto ecco vedi il centravanti che c'è il buco de culo non è Dzeko ovviamente ma è destro fa un tiro de piatto proprio di tutto il portiere sta là gliela do de piatto gliela appoggio io la passo sotto le gambe e go si ma mo però cioè Dzeko ci ha provato in tutti i modi ma mo non possiamo dire che destro sia un centravanti che ci abbia culo perché destro beh vabbè però insomma ieri ce l'ha avuto insomma beh ieri una volta in tre campionati comunque a 10 gol lui ci arriva sempre più o meno brutto storto morto lui ci arriva insomma me l'avete cacciato no vabbè ma quello cioè alla fine ma tu sei veramente no non so stato io Grit Bizzolski ma qual è Grit Bizzolski? quello è uno youtuber serio l'Inter l'Inter ah l'ho detto e il Milan il Milan il Milan il Milan seguirà la linea dei giovani non sarà sbagliata questo si mette là fa giocare Calabria Donnarumma Romagnoli tutta questa gente Italianucci gli conviene giovani con la voglia eccetera eccetera tirano fuori una squadra nel giro di due tre anni questo è un investimento a lungo termine ho qualche innesto d'esperienza e guarda però se la Fiorentina segnava vinceva se io sapevo giocare a pallone vinceva se io sapevo giocare a pallone meglio intanto nessuno sta guardando perfetto chi è rimasto? nessuno anche perché stiamo andando a 6 minuti la gente da voi che si è rotta le palle vabbè però chiudiamo con qualcosa chiudiamo con qualcosa chiudiamo con qualcosa chiudiamo con qualcosa questa è la classe società la società seria una proprietà seria un presidente serio un allenatore con le palle cioè quello c'è il cementificio ti fanno sparire capito? se non giochi sparisci l'allenatore con le palle con la sabbia e i tondini la sabbia e i tondini i tondini i tondini hai detto i tondini i tondini l'allenatore con le palle una società seria un presidente presente le palle il presidente deve essere presente un modulo di gioco il presidente deve girare sul campo d'allenamento esatto come praticamente un avvoltoio quelli che ti fanno mangiare un avvoltoio un avvoltoio capito? una pallotta che sta nei stati uniti quando ti pare vieni ma che cazzo stai a fare? come? no nel senso modera mi riega no nel senso what do you what do you do? do you do così va male così ve lo dico così va male quelli vanno per il locale comunque quest'anno a ottobre già abbiamo basta finito no vabbè a ottobre stanno proprio il minimo già siamo riusciti a ottobre basta basta lo usano saluto a tutti e voi che cosa ne pensate? state per bene basta che magnata ieri chiudi grazie a tutti Grazie.